Avviso a tutti i genitori, per i vostri figli è in arrivo una novità targata Folgore Karatese Sport Italia Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter, Instagram e Youtube per scoprire di cosa si tratta Nei prossimi giorni vi diremo tutto Pronti a un'estate pazzesca all'insegna del calcio e del divertimento?